Tredicesima giornata del volo, oggi qui in Comina abbiamo l'occasione di far volare i ragazzi dell'ANFAS, ragazzi disabili, che proveranno l'ebrezza del volo, alcuni anche per il battesimo. È un'iniziativa molto importante, siamo alla tredicesima edizione, grazie ai volontari, grazie alla collaborazione tra associazioni di volontariato diverse, e c'è la possibilità di fare questa iniziativa che credo sia l'unica a livello nazionale o una delle poche. Il Comune di Pordenone partecipa con la propria protezione civile, con il gruppo di protezione civile comunale che viene qui, oggi siamo qui in 15, e danno una mano proprio a questa attività. È un'iniziativa meritoria, speriamo che continui negli anni, perché solo il vedere questi ragazzi che volano, la felicità in loro e il salutare all'anno prossimo fa capire qual è l'importanza di questa iniziativa.